Grande grinta e energia del Presidente di Cogeme verso gli obiettivi futuri. Questa voglia di sentirmi utile scaturisce da un grande sentimento di affetto nei confronti del mio territorio e l'amore verso tutta la gente e mi sento orgoglioso di appartenere a questo territorio. Per cui io sono in un'età avanzata, il mio cervello non si è ancora reso conto, però lasciare come ultima fase della mia vita un ricordo di me come impegnato a portare benessere alla mia gente e al mio territorio. È ovvio che ho l'obbligo, siccome devo ringraziare i sindaci soci che praticamente all'unanimità mi hanno fidato questo incarico con maggiore responsabilità, perché essendo praticamente all'unanimità mi hanno fidato questo incarico che lo considero un grande privilegio, prima di tutto la gratificazione e che mi ha fatto scaturire la voglia di essere protagonista dello sviluppo e del benessere della mia gente.